Allora ciao a tutti e bentornati sul canale del garante per questo settimo episodio della lubrica, il comando che te la fa prendere bene, andiamo a vedere un comando che si chiama change label. Allora io vi farò vedere poi a che cosa serve, qual è il vantaggio di questo comando che essenzialmente fa una cosa, cambia il nome all'elemento che noi selezioniamo. Quindi intanto vado a mettere una vista standard sezione così si vede meglio. Allora io qui ho per esempio un ponte, una passerella pedonale. Come vedete questo è l'arco superiore, questa è la trave di impalcato e io ad esempio voglio andare a vedere facilmente, andare a tirare fuori i valori dal SAP senza dover stare a mettermi lì a contare ok questa è la trave numero 103 ok questa è la trave numero 100 ok questa è la trave numero 99 ok io voglio dargli dei nomi ok? Quindi che cosa faccio? Vado qui, clicco qui sopra, tasto destro e posso cambiare per esempio label, ci metto per esempio Fagiano ok? E clicco ok. Benissimo. Quindi vado sul mio label e l'ho chiamato Fagiano. Benissimo. A questo punto però che cosa mi serve il comando change label? Per cambiare ad esempio più valori di questo per esempio passerella pedonale insieme. Quindi andiamo a ricercare il nostro elemento, qui avevamo 95, qui abbiamo 97 quindi il nostro elemento qui era il 96. Benissimo. Andiamo a vedere qual è il vantaggio a questo punto. Io per esempio voglio mettere in ordine da sinistra verso destra tutti questi elementi ok? Che partono dall'84 e arrivano fino al 111. Benissimo. Mi apro un file Excel e che cosa vado a fare? Io ad esempio voglio chiamare corrente superiore 1. Quindi il primo elemento lo chiamerò ad esempio CS01 ok? E visto che sono 28 elementi, li ho già contati, li ho già contati, andiamo a mettere CS fino a 28. Tasto destro copia e ci andiamo a selezionare tutti questi elementi. Solamente quelli verticali ok? Quelli del corrente superiore. Quindi selezioniamo tutti. Benissimo. Andiamo su edit, change labels, qui item type come potete vedere e cliccate su element labels frame. In questo caso poi ci sono altri comandi per esempio joint, element section properties area, insomma un sacco di cose. Noi in questo caso scegliamo frame ok? E quindi dall'84 al 111. Benissimo. Allora che cosa andiamo a fare? Clicchiamo qui, tasso destro, anzi scusate ctrl v e abbiamo cambiato il nome ok? Quindi CS da 0,1 a 28 ok? Benissimo. Quindi gli diamo ok. Che cosa succede adesso? Io qui avevo chiamato per esempio questi valori con un altro nome ok? Benissimo. Adesso dunque andiamo a vedere, andiamo a dare per esempio l'analisi. Quindi f5 run now col comando range add che vi avevo fatto vedere nello scorso episodio ci andiamo a vedere un po' i valori e vi faccio vedere qual è il vantaggio di fare questo comando change labels per numerosi elementi. Potete farlo anche elemento elemento come vi ho fatto vedere all'inizio cambiandolo a mano. Però se avete tanti elementi da cambiare insieme è un po' macchinoso è meglio questo metodo. Quindi per esempio andiamo range add ok? E noi per esempio vogliamo conoscere gli sforzi solamente in questi elementi qua ok? Quindi che cosa andiamo a fare? Intanto possiamo selezionarli o non selezionarli. Per esempio nel caso noi non volessimo selezionare o non avessimo la possibilità perché il nostro modello è troppo incasinato ok? Figgiamo ctrl T quindi show tables. Andiamo sui frame quindi per esempio le forze nei frame. Ci selezioniamo range add load pattern, load pattern, range add ok? E in questo caso come potete vedere vi darà un sacco di elementi. Benissimo. Però qual è la caratteristica? Che voi avete scritto questi elementi col cs. Quindi andate nel filter, filter table, sort, ecco filter, quick, frame e ci mettete per esempio maggiore di A. Ok? E come vedete in questo caso nella tabella che cosa avete? Avete solamente gli elementi con la C. Ok? Quindi se voi nel vostro modello super incasinato volete andare a selezionare solamente un certo numero di elementi che avete chiamato con questo nome, in questo modo andate a ritrovarli subito. Ok? Quindi change labels per cambiare nome a più elementi. Lo potete fare per i frame, lo potete fare per i joint, lo potete fare anche per altre sezioni. Benissimo. Questo è tutto. Spero che vi possa tornare utile questo comando. A me per esempio è tornato utile nel serbatoio in calcio e struzza armato. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!